Nata nei primi anni del Novecento, la linea Cadorno mostra alcune delle sue parti più belle a Cassano Valcuvia, dove sono state costruite molte trincee sotterranee e camminamenti sul fianco della montagna che sovrasta il paese. Grazie al grande lavoro dei volontari, le strutture della linea sono rinate e noi abbiamo fatto un piccolo viaggio per andare a vedere da vicino questi monumenti della storia, che sono diventati da non molto tempo inestimabile patrimonio culturale. Dante Bezzolati, volontari della protezione civile di Cassano, hanno ricevuto in eredità la linea Cadorno e la stanno sistemando pezzo a pezzo ma comunque con passione. Sì, noi abbiamo ereditato questa cosa che è nata bene 15 anni fa, recuperando, come molti oramai conoscono, il tracciato, la ridotta di San Giuseppe. Cinque anni fa circa, Comunità Montana ci diede l'incarico di iniziare a ripercorrere i tracciati, ricostruire i tracciati che oramai erano sepolti per quello che riguardava la parte est del nostro paese. Primo anno si fece appunto questo tipo di recupero, nel secondo si iniziò lo sfalciamento di rovi, piante e tutto e poi negli ultimi tre anni, a seguito di varie esercitazioni combinate tra noi come nostra squadra con altre squadre, ma soprattutto con le squadre COF della Comunità Montana, quello che oggi avrete modo di vedere è proprio il lavoro, lo sforzo finora fatto dai volontari per arrivare a vedere quello che state vedendo adesso. E' stato un lavoro pesante perché si parla di muovere i detriti e soprattutto mettere in sicurezza la linea. Sì, ecco, il lavoro è proprio stato pesantissimo, affrontato molto bene dai volontari perché oltretutto è stato fatto per esigenze tecniche proprio con tutti i mezzi più normali, il badile, il piccone, perché non si può intervenire ovviamente con ruspe e cose del genere per non distruggere tutta la bellezza dei manuffati. Abbiamo sì recuperato dai detriti tutta la fondazione, abbiamo riaperto gli ingressi delle gallerie che oramai erano proprio completamente ostruiti, abbiamo ricostruito i tratti di muri in più punti e siamo arrivati ad un buon livello, ad un buon punto anche del lavoro. Speriamo che la nostra comunità montana, sempre sensibile, ci dia modo di fare altre esercitazioni con tutte le squadre co-off abbinate in modo che portando in due, tre fini weekend settimanali i 150-160 volontari a sgobbare su questa linea Cadorna, miglioreremo sempre di più l'aspetto per chi vuole visitare la detta linea. La vostra è stata oltre a un lavoro di sgombero anche un lavoro di scoperta perché sono emersi diversi reperti. Sì, infatti l'entusiasmo credo che ci porti continuamente e mai diciamo a ridurre la potenzialità del lavoro che stiamo facendo sulla linea Cadorna perché proprio stiamo riscoprendo dei fatti che per noi giovani, considerandomi io ancora giovane veramente sia una potenzialità architettonica sotto i vari aspetti da quello idraulico, da quello tecnico, da quello murario, da quello dello scalpellino a noi veramente tutte le volte che riscopriamo cose nuove per noi è una ventata di forza che dà modo di andare avanti di andare avanti e non fermarci senz'altro. Siamo nella prima parte, la parte forse più interessante di quella che è la linea Cadorna qui a Cassano-Valcube. Il punto in cui ci troviamo, località Camana, Cassano-Valcube, ha inizio un tratto un tratto della seconda linea di difesa che fa parte del numeroso gruppo di linee che compongono la linea di difesa della frontiera nord oggi conosciuta come linea Cadorna, un nome che è stato dato di recente per identificare questa linea con un generale che mi ha seguito la costruzione e ha fortemente sostenuto la realizzazione di quest'opera che è il generale Luigi Cadorna. Siamo nella parte più bassa di questa seconda linea, come dicevo, è una linea che parte dal Piambello, prosegue col Monte Sherrè che è davanti a noi, continua su San Martino, Monte Colonna e poi aveva una diramazione verso Monte Nudo, Pizzoni di Laveno e Lago Maggiore. Dove essere una linea continua, in realtà per tanti motivi, per mancanza di fondi, per i continui sopralluoghi fatti da generali nel tempo che hanno portato parecchie modificazioni al tracciato e poi, man mano che procedeva la guerra al fronte, anche l'inutilità di opere che probabilmente avrebbero potuto anche non essere utilizzate. Qui siamo in località Camana e questo è l'ingresso a valle dell'osservatorio numero 20, un osservatorio che aveva come compito di trasmettere le coordinate di tiro alle postazioni per artiglieria di piccolo calipro che c'era sulla collina di San Giuseppe e poi, in caso di attacco nemico, anche a delle postazioni da armarsi per l'occasione in località Cantevri e Rancio.